A Beer Food Attraction 2024 si incontrano tanti amici e professionisti del settore del food, è il caso dello chef Antonio Sorrentino, napoletano, vicepresidente di Apci e chef executive di Rosso Pomodoro, la più grossa catena al mondo di pizzerie, in franchising ma anche di proprietà della società. Antonio, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Antonio, in un minuto raccontiamo la tua storia, io lo so che raccontare in un minuto tanti anni di vita e di carriera è difficilissimo, peraltro nel tuo caso si fonde la vita professionale con lo sport, tu sei un abilissimo giocatore di rugby e dunque a te la parola per un minuto. Un minuto è troppo poco ma ci riusciremo, io sono stato fortunato perché nella mia vita ho fatto due cose che mi sono piaciute moltissimo, il rugby e la cucina, io sono figlio d'arte quindi mio padre Aniello Sorrentino mi ha insegnato i propri primi passi in cucina poi fortunatamente questo lavoro ce l'avevo nel sangue, nella passione e quindi sono andato avanti nella mia passione, rugby la stessa cosa, quindi uno sport che non voleva fare nessuno e che non si conosceva. La cucina immaginiamo fino a 20 anni fa, cioè nessuno voleva fare il cuoco, oggi è il lavoro più figo del mondo e spero che i ragazzi capiscano che sacrificio no, divertimento, passione sia la parte più importante del nostro lavoro, quindi io ho fatto questo lavoro dalla gavetta, quindi lavando i piatti, cucinando i ristoranti di spicciolata, poi facevo i ricevimenti e catering, ho fatto tutte le branche della ristorazione. Fino a televiare oggi sono esecutivo chef di Rosso Motoro, quindi portare la cucina italiana e napoletana nel mondo insieme alla pizza napoletana che immaginiamo 20 anni fa gli americani dicevano What is pizza napoletana? Perché non si conosceva, oggi la pizza napoletana e il lavoro di pizzeria è diventato anche patrimonio in natura immateriale e quindi che dire, il nostro lavoro se si fa con passione e grande determinazione come nel rugby si arriva lontano. Antonio, alle nostre spalle c'è il mega stand del campionato mondiale di pizza, perché sei qui? Perché io sono un grande amico dell'organizzatore Enrico Famà, Ristorazione Italiana Accademia, una delle prime accademie di pizza nel mondo, cioè che insegna a fare la pizza, ma la pizza nella sua globalità, perché qui immaginate ci sono quasi 20 branchie della pizza, quella croccante, quella a pala, quella a schioccarella, quella a mattarello, cioè quindi c'è la pizza, è un mondo pazzesco, un mondo di amici, un mondo che ti rende felice, quindi tutta la pizza è felicità e tutti i tipi di pizza sono felicità. Un po' come quando ti metti in cucina e crei, crei, crei tutte le variabili possibili con gli alimenti che si vanno a pescare volta per volta per creare nuove pietanze. No, perché abbinare sicuramente ci vuole conoscenza e soprattutto il cuoco e il pizzaiolo devono essere curiosi, dobbiamo mettere insieme il fusion, no? Cioè, conoscendo però alla base la varietà del prodotto, immaginiamo il pomodoro, il pomodoro mica è uno, prima una volta si diceva Sars, ma la salsa è fatta di, oggi come oggi, di mille varietà di pomodoro che possono essere messe su una pizza. Antonio Sorrentino, ti lasciamo al tuo compito di giudice primo al campionato di pizza senza frontiere, grazie. Grazie a tutti, viva la vita, viva la cucina, viva la pizza.